o salve a tutti amici e benvenuto alla recensione di huawei p40 pro dispositivo che è uscito ormai già da qualche anno sul mercato io però purtroppo ho avuto sulla destra possibilità di provarlo però in questo periodo sono arrivati tantissimi aggiornamenti tra cui uno solo qualche paio di giorni fa ma questi aggiornamenti hanno migliorato o hanno peggiorato l'utilizzo di huawei p40 pro beh lo scopriremo subito in questa recensione però prima di continuare vorrei ricordarvi di iscrivervi al mio canale se ancora non avete fatto lasciate un bel like se questo video vi piace ma se volete chiedermi qualcosa su huawei p40 pro lasciate subito un commento giù in descrizione intanto vorrei anche ricordarvi che sto provando la fotocamera del samsung galaxy s21 ultra e quindi fatemi sapere anche un po magari come mi vedete con questa fotocamera quindi tutta la recensione sarà girata con lo samsung galaxy s21 ultra sì mi piace un po fare questi piccoli esperimenti beh andiamo subito alla recensione senza perdere altro tempo cominciamo subito a parlare di design di questo huawei p40 pro io devo dire la verità questa colorazione bellissima a me piace davvero tanto forse anche la più bella però sono sincero proprio il design principale di questo huawei p40 pro mi piace molto carino anche display con queste quattro curvature anche se forse sono un po troppo curvi bordi però nell'uso di tutti i giorni non dà assolutamente fastidio invece quello che mi fa un po strano forse questa cornice che ha questi piccoli riconfiamenti ai lati sicuramente nell'utilità sarà buona perché comunque da un forse una forza in più durante le cadute però forse a livello estetico mi lascia un po a desiderare vedete tra l'altro si è già sbloccato il foro a forma di pillola per racchiudere due fotocamere frontali decisamente grande secondo me però nell'uso di tutti i giorni come sempre non ci fate più caso invece sulla scocca posteriore vediamo subito le quattro fotocamere beh decisamente sporgente anche se non troppo purtroppo su superficie piane beh da un po fastidio inoltre vediamo che c'è anche una fotocamera periscopica non è molto spesso solo 9 mm e da questa parte troviamo il tasto di accensione il bilanciere per il volume da questa parte è decisamente vuoto in alto solo i microfoni e qualche sensore e in basso c'è l'altoparlante il carrellino per la sim e per espandere la memoria però sono le memorie proprietari di huawei di cui ne ho una all'interno e poi abbiamo la type si qui in basso allora display molto bello si tratta di un'unità amoled e da una diagonale da 6.58 pollici la risoluzione è di 2640 x 1200 pixel un bel display sicuramente però forse io l'ho trovato un puntino meno un filino meno forse ai vari top di gamma per esempio samsung si è luminoso molto carino forse meglio di tanti altri dispositivi con display lcd però da un top di gamma forse mi sarei aspettato qualcosina in più vi faccio vedere anche un attimo di informazioni sul dispositivo perché vi ho detto che qualche giorno fa sono arrivati degli aggiornamenti beh siamo sempre alla emuai 11 però siamo basati ancora su android 10 purtroppo sospettando android 11 ormai da tantissimo tempo perdonatemi sto facendo un casino e le patch di sicurezza sono del primo gennaio 2021 sì di gennaio nonostante siamo a marzo e questo aggiornamento è arrivato un due tre giorni fa vediamo già nel frattempo che all'interno abbiamo un chiodino 990 un buon processore 8 gb di ram e 256 gb di memoria interna allora qui vorrei aprire e chiudere una parentesi il processore è un ottimo processore comunque ci troviamo su un top di gamma quindi il processore che sinceramente non dà lag nell'uso di tutti i giorni tra le varie app e quant'altro però ad esempio nel gaming magari andiamo già a provare asfalt purtroppo ho trovato moltissimi lag si può giocare tranquillamente ad asfalt non è che non è giocabile però ci sono in alcuni casi troppi lag tra l'altro sono dei lag che non sempre in tutte le partite ci sono inoltre caricamenti sono abbastanza veloci e a differenza del mid 40 pro che ho provato qualche mese fa su questo piccola da pro asfalt per esempio gira anche a 60 fps andiamo un attimo a farci una gara veloce vedete alla fine dei conti non è neanche tanto lento nelle varie fasi di gioco però ve l'ho detto qui purtroppo la parola chiave è sempre ottimizzazione secondo me asfalt per i dispositivi huawei non è ottimizzata al 100 per cento nonostante l'ho scaricato direttamente dal dall'app gallery di huawei allora vedete che le animazioni sono abbastanza fluide ecco a in partenza c'è stato un lag ovviamente qui ci troviamo alla grafica massima perché mi è sembrato di non trovare differenze con i vari top di gamma faccio vedere vedete ci sono alcuni lag sporadici da qualche parte è sicuro ecco un altro lag vi assicuro che in questo momento sta girando abbastanza bene in altri momenti che ci sono stati molti più lag vedete che nelle varie fasi un po più complicate purtroppo il lag ci sono queste per esempio sul met 40 però non succedeva però vabbè questo purtroppo è il gioco vedete alcuni lag anche durante la chiusura si può giocare assolutamente non è che non è giocabile però comunque è sempre meglio sapere che la ci sono mentre parlavo di display poi mi sono verso con il con la parte hardware vi voglio far vedere un attimo un video su youtube ovviamente non abbiamo google installato però fortunatamente ci soccorre sempre petal search tra l'altro le fotocamere riescono a rilevare anche i gesti visibilmente dalla è un attimo su youtube ora ci troviamo qua andiamo a vedere qualche video in 4k allora andiamo sempre sul solito il nostro video pubblicità ed ecco qua il video sta partendo allora ovviamente qui si tratta di una mobile app quindi non abbiamo tutta la comodità della sua applicazione però ha un attimo il volume per farvelo sentire allora risoluzione massimo purtroppo qui posso metterla solo a 720p quindi non possiamo godere delle risoluzioni massime di youtube allora il volume dell'altoparlante qui c'è un solo altoparlante in realtà non due il volume dell'altoparlante non è altissimo e sono sinceri in alcuni casi ma anche un po deluso perché delle musiche per esempio ho ascoltato un po di musica e non è di qualità come forse altri top di gamma quindi da questo aspetto mi fa un po deluso inoltre mi sono anche dimenticato di farvi vedere che lo sblocco del volto ovviamente dovrebbe riconoscerci anche in 3d perché c'è una fotocamera anche 3d visto che riconosce anche i gesti allora la fotocamera riesce a sbloccarci veramente bene e molto facilmente e anche il sensore di impronte digitali in realtà funziona molto bene non ha mai mancato un tocco vedete super veloce subito ci riconosce ed ha apprezzato anche in alcuni casi in cui il telefono rimane su tavolo per per molto tempo allora non questo ad un certo punto si si spegne ovviamente per far risparmiare un po di energia ma se noi ci avviciniamo solo con il volto per andarla a vedere automaticamente il display on si illumina quindi questa è una funzione che a me è piaciuta tanto sicuramente non funziona a cento volte succedendo questa cosa però comunque funziona ed è anche sinceramente ed è anche molto simpatica allora non vi ho parlato ancora di batteria allora su interno c'è una batteria da 4200 miliampere si ricarica abbastanza velocemente forse un'oretta e mezza più o meno per ricaricarsi qualcosa del genere e a sera mi porta tranquillamente con il 30 40 per cento di ricarica ok in questo momento in questo periodo non lo sto utilizzando forse 100 per cento perché stiamo uscendo veramente poco da casa si qui siamo ancora in lockdown non so se l'avete visto forse in tv qui a londra purtroppo la situazione ancora quello che è quindi non sono potuto uscire tanto però per quel poco che l'ho potuto provare ho giocato davvero tanto ho fatto tantissime operazioni beh assieme a portato tranquillamente quindi presumo che anche mentre uscite con il 20 30 per cento comunque riusciti riuscite a stare inoltre sto girando anche un po' vuoto anche per farvi vedere sempre la reattività di questo processore ve lo ripeto un ottimo processore peccato sempre un po per la sua ottimizzazione anzi per le app che vengono ottimizzate e cosa volevo farvi vedere beh da questa parte allora a parte che l'applicazione di petal che è quella che ci aiuta a scaricare anche altre app che non sono disponibili per esempio sopra all'app gallery di huawei come per esempio instagram allora da qua instagram ok dove sono andato non lo so ok instagram tra l'altro c'è anche un aggiornamento a qui per esempio possiamo scaricare la versione che abbiamo su tutti i dispositivi android quindi non ha nessuna mancanza mentre se andiamo su app gallery ci fa scaricare solo un una web app tra l'altro davvero mal fatta perché comunque le storie non si vedono bene non si possono passare avanti c'è un po di casini che a me sinceramente non è piaciuto da qui da petal possiamo scaricare tutte le applicazioni quasi tutte le applicazioni che vogliamo e sinceramente funzionano anche molto bene in alcuni casi beh ci viene detto tramite pop up che l'applicazione non funziona bene perché ci mancano i google services però comunque funziona e vanno molto bene volevo farvi vedere proprio questa petal che sta crescendo davvero tanto anzi huawei sta investendo davvero tanto su questa applicazione beh da poco è uscita anche petal maps sono sincero allora non posso utilizzarla sempre come solito per la strada però mi sembra fatta davvero ben fatta e non hanno forse tutte le caratteristiche che hanno le mappe di google di apple però comunque funzionano bene a me sono piaciuto anzi per metterci una pezza a quelle di google visto che non ci sono guardati google sinceramente sono davvero ottimo l'altro hanno fatto anche una tassiera petal non mi è piaciuto particolarmente e non solo tra poco dovrebbe riuscire anche dei client il client email sui dispositivi voi fatti proprio da petal quindi comunque guardate bene che huawei sta investendo tantissimo proprio su questo servizio petal allora scrivo un attimo messaggio perché allora volevo farvi allora in questo momento io ho installato g board quindi comunque g board è possibile installarla in questo momento funziona bene perché g board è una buonissima tastiera di default ci abbiamo corrallati microsoft non mi è piaciuta particolarmente tanto non mi è neanche piaciuta tanto la vibrazione di questo dispositivo ragazzi credetemi una vibrazione davvero molto molto con musa e non mi ha fatto uscire pazzo questa cosa forse anche perché subito ho voluto cambiare la tastiera di microsoft in con quella di google che a me sinceramente comunque piace sempre un po di più rispetto alle altre andiamo intanto anche un attimo su instagram vi faccio vedere un po come gira il tutto tra l'altro qui c'è un refresh rate non so perché adesso sarà chiuso c'è un refresh rate a 90 hertz quindi un filino di fluidità in più rispetto ad un display da 60 hertz c'è anche se non è veramente visibile tanto infatti in alcuni casi mi dimentico anche qui ci sono delle fresciere un po più alti però comunque 90 hertz sono abbastanza buoni c'è la modalità dark purtroppo non c'è la modalità dark automatica non capisco perché vuoi ancora non metta questa dark mood automatica purtroppo l'ambossate bianco o l'ambossate nero ci sono i vari temi tantissimi display sono davvero molto carini mi stavo perdendo un attimo non mi ricordavo più come si faceva eccoli qua tutti i display always on ne possiamo scaricare anche degli altri sono davvero molto carini sinceramente a me piacciono possiamo modificare lo sfondo tra l'altro questo lo sfondo del nuovo huawei mate x2 se l'avete visto se non l'avete visto sul mio blog ne ho parlato e si tratta del nuovo foldable di huawei che spero di poter provare ma forte cosa altro tv beh parliamo di fotocamera fotocamera che ha quella la frontale da ben 50 megapixel abbiamo una fotocamera grandangolare davvero ben fatta tra l'altro da 40 megapixel a me piaciuta poi abbiamo quella la periscopica da 12 megapixel riesce a fare uno zoom 100 per digitale poi vediamo anche qualche scatto mentre dalla parte frontale c'è una fotocamera da 32 megapixel qui voglio subito dirvi poco tempo fa pubblicato su youtube un video dell'unboxing del galaxy s21 ultra becco l'unboxing almeno la parte frontale dove mi inquadravo io era fatta proprio da questo huawei e sinceramente fa davvero dei gran bei video mi ha sorpreso davvero una bella fotocamera per fare video anche quella la posteriore ovviamente fa dei video allora qui le mie galaxy buds giusto per fare uno scatto ad esempio ovviamente c'è sempre la modalità intelligenza artificiale mettiamo un attimo fuoco scattiamo allora la messa a fuoco abbastanza veloce lo scatto idem sembra abbastanza veloce guardate che bella foto davvero huawei fa veramente bellissime foto un'ottima un'ottima per fare la un'ottima fotografica scusatemi mi sto perdendo allora faccio vedere un attimo le impostazioni ovviamente i video si possono girare in 4k a 60 framerate per secondo c'è sempre un limite di tempo purtroppo in questi video in 4k possiamo fare il video i video efficienti abbiamo la livella il timer tag posizione quant'altro impostazione abbastanza standard che abbiamo su tutti gli altri dispositivi c'è la modalità apertura che mi piace la modalità notte buona il ritratto di tratte tra l'altro se i video la fotocamera fondale li fa bene figuratevi un po i ritratti voi abbiamo video la modalità pro poi in altro abbiamo tantissime altre modalità di scatto beh come scatta le foto questo huawei p40 pro davvero molto bene adesso andiamo subito nella mia cartella di test e cominciamo subito a far vedere questa foto allora qui sono a 100 per di zoom volevo fotografare la luna ok non è venuta proprio benissima la fotografia la luna però nel totale questo poi è venuta abbastanza bene pur essendo comunque sempre uno smartphone allora fotografia fatta con la fotocamera frontale qui ho messo uno di quegli effetti con lo sfondo nero magari dopo ve le faccio rivedere nella fotocamera questa è più o meno la stessa foto di quella di quella di prima però in questo caso vedere che non ho messo lo sfondo nero un primo piano a questi rami guardate il l'effetto bokeh posteriore cioè sul retro davvero molto carino anche se sul primo ramo c'è qualche piccolo difettuccio questa è una grande angolare guardate che bella foto allora era un po più buio ovviamente all'esterno però comunque guardate che la luce che ha catturato sembra quasi che sia ancora pomeriggio ma in realtà era scuro qui invece siamo di giorno bellissima foto bellissimi colori ce li vengono davvero molto blu in questo caso anche in questo caso tra l'altro se dal dall'anteprima vedi di cielo bianco poi c'è una sorta di elaborazione e vi rifà il cielo perfettamente qui beh qui vedere era tutto nuvoloso comunque sempre foto in grande angolare è fatta molto bene foto sempre di questo palazzo che stanno costruendo qui vicino un palazzo altissimo comunque la foto è venuta decisamente bene bei colori anche in questo caso sempre foto fatta sempre qua vicino bellissimi sempre fatta bene anche con i colori anche in questo caso un po nuvoloso abbia scattato davvero tantissime foto ovviamente anche per testarlo un po di più beh ha fatto la neve in questo periodo almeno nel periodo in più che stavo provando il dispositivo ho voluto fare un primo piano di quella mercedes che si trovava lì dietro con un po di neve sopra questo muretto beh la foto è venuta bene tra l'altro fatto alcune foto zoom sulla neve si vede molto molto bene questa è una foto fatta a 100 per del mcdonald foto sempre a questo poco di neve che si trovava a terra bellissime le colorazioni questa la modalità apertura ecco perché mi piace tantissimo la modalità apertura fotografia notturna bellissima ottimi colori davvero molto fedeli alla realtà sempre un'altra foto qui invece sempre con la modalità notturna qui siamo un po con più forse un po più viola è riuscito questa foto però comunque nel totale la foto è ben bilanciata sempre foto notturna davvero fatta bene guardate la luna la sopra non è molto sfocata anzi è venuta abbastanza carina ecco questa invece è una foto che ho fatto proprio alla luna è venuto meglio di quella che avevo fatto vedere all'inizio e abbastanza dettagliata non dettagliatissima ma comunque abbastanza dettagliata a me piace davvero tanto guardate invece questa fotografia come è venuta bella cielo blu davvero questi riflessi un po più nel celestino questa era proprio la modalità cielo se non erro è bella foto ragazzi è merita davvero una gran bella foto sinceramente qui abbiamo fatto un piccolissimo pupazzo di neve fuori la finestra si comunque qui a londra c'è sempre neve e sole come se niente fosse quindi tempo un po ballerino qua e beh davvero una bella foto ho fatto anche questa neve anche in questo caso ho catturato la neve che c'è anche la modalità neve giusto per farvi capire un po le varie scene che ci sono allora fotografia fatta alla neve davvero tra l'altro ho fatto la fotografia alla neve con altri dispositivi vento nuovi è uscita anche abbastanza bene ma meglio degli altri dispositivi ovviamente fotografia grandangolare davvero fatta molto bene anche in questo caso si vedeva molto l'elaborazione del cielo una volta scattata sempre fotografia fatta qua fuori con vedete tutto molto celeste queste sono quelle foto in movimento di cui invece vedete anche sul picco grande sul met 40 pro però vabbè vi servirebbe un treppiedi ma io mi sono mosso tanto fotografia zoom fatta di notte e finalmente sono finite le foto avevo detto ho fatto tantissime foto questo selezionato alcune delle tante che ho scattato cosa trovi vi beh credo di avervi detto ormai tutto inoltre qui a differenza del met 40 pro se voi scattate e cioè se voi cliccate i bilancieri del volume poi volete abbassare così è un po diverso da come si faceva con i mit pro la era un po più naturale forse cosa trovi bella mai 11 la emo ai 11 perdonati mi confondo con quella di show mi davvero molto carina sta migliorando tanto migliorato tanto anche se le ha di cui ho provato per qualche giorno mi piacciono io lui son davvero un bel display ottimo il design e soprattutto gran belle fotocamere nonostante ci troviamo ad un anno di distanza dalla sua uscita io credo che questo sia ancora uno dei top di camera per quanto riguarda la fotocamera bell'unico problema le app non sono ancora ottimizzata 100 per cento ma possiamo mettere tranquillamente una pezza alla mancanza dei servizi google grazie ad app gallery ma soprattutto grazie a petal quanto costa su amazon poco più di 600 euro in questo momento io ve lo consiglio se non volete spendere tanto per un dispositivo che va bene ma dovete fare sempre i conti alla mancanza di google quindi da pasquale per mobile blogger punto il ci vediamo al prossimo video con la recensione del galaxy s 21 ultra ed ovviamente anche loro galaxy buds pro ciao a tutti ragazzi vediamo al prossimo video iscrivetevi al mio canale ciao a tutti